Carissimi amici, questa mattina mi sono fatto tre... che v'aspettavate? Che v'aspettavate? No, perché in questo periodo si sente dire me ne sono fatte una, me ne sono fatte due, me ne sono fatte tre... No, io mi sono fatto tre laghi, sì, lago di Bolsena, lago di Vico e lago di Bracciano. Ognuno si fa quello che può. Beh, oggi mi faccio un po' di dosi di musica, sì, perché è un po' di lezioni, e stanotte un'overdose di radio, sì, tutta la notte, tutta la notte, da mezzanotte e trenta fino alle cinque e trenta in diretta, nella notte sicura di Rai Isoradio. E vi porterò al mattino della vigilia di Natale. E poi, vabbè, domani avremo modo di risentirci in qualche modo, va bene? Intanto buona, come si dice, antivigilia di Natale a tutti voi. Ciao!